Ciao a tutti e bentornati con quello che dovrebbe essere la fine della missione Sperando che non crashi più il gioco Speriamo bene Allora, dove eravamo arrivati? Eravamo arrivati qua? Oh, penso di sì, dai Ah, modo alternativo di rompere le casse, spingendole contro i muri Ok, vai Vediamo, sto dio della morte Sperano, dovevo guardare Ma dovevo guardare a Feltrite queste nemiche cose? Dovevo guardare le sporo mutanti in teoria Vabbè Non ti mi dispiace, eh Feticcio della setta Adesso lo prendiamo E questo qua era il bonus preordine L'armatura è una pistola Direi che basta L'armatura è di Nicolas Reign Di Reign 1 Ah E anche questo qua c'è Vediamo un attimo Se nelle armi c'è quella lì adesso Pistola dei coloni Questo qua Posizione sconosciuta Pistola dei coloni non si può potenziare, no È proprio così e basta, ho capito Danno Ma è una mezza cartuccia sta mezza Vabbè 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 Aiuto Cazzo Aiuto Pistola dei coloni non si può potenziare, no A presto Bene. E questa è fatta. Sarà meglio informare Marshall. Ehi, Marshall. Quel tipo strano, il tuo amico. Ho fatto quello che voleva. Credo di aver eliminato un'intera setta. Ah, e ho trovato della... fantastica attrezzatura arcaica. Ok, parla ancora col mio amico. Avrà qualcos'altro da dirti. Va bene. È un po' inquietante, ma... Ok. Non ha altro. Non c'è altro qua, no? C'erano sette casche. Ho trovato solo tre. Vabbè, ok. Non c'è altro qua, non c'è altro qua, non c'è altro qua. non c'è altro qua. Ok. Ok. 4 di 7 ne manca ancora che sia ancora lunga la strada non male come missione non male assolutamente beh qua con la terra oh cazzo per un pelo oh cazzottano dei mutanti mamma mi sa che no dai 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 no 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 finiamo la missione in corso perché altrimenti non è più finita non è giusto fare così lasciare una missione a metà questo qua lo faremo prossima volta eeeh di là qua ecco ma che cazzo sto alberone no no mi si è bagato dentro l'albero eh si ma dai cazzo mai visto una roba del genere vabbè 6200 metri così che palle allora piccoli impossibile di chiamare qui come ma scherzi ma scherzi oh cazzo ma quanto sfigato sono da 1 al 15 cazzo e questo perché non si può guidare per quale oscuro motivo non si può guidare questo caracca ma devo fare un chilometro a piedi porca toccola in realtà bello come posto è ma cavolo ecco un altro covo di banditi vabbè facciamo questo dove ci siamo dai siamo qua ecco un altro Cazzo Non hai mai avuto Maledetto Non hai problema Tieni Cazzo Ups, me sto agitando A tapando Ok Data pad 1 di 2 Eccolo qua il data pad Beh va bene La cassa di stoccaggio Può essere Qua davanti Poi almeno spererei che sia così Anche la dietro c'è della roba Eccola lì E vai Qua non è morto nessuno Con una granata Oh vabbè No, noi dobbiamo trovarlo Ecco Stai zitto per quanto sia O come dire Avrebbe detto Terminator Parla con la mia mano Citazione per i vecchi Come me Come non farsi male Proprio un'ottima cosa quella lì eh Che animali sono questi qua? Cioè sì, li ho già trovati prima Ma voglio capire un attimo come sono fatti Tipo dei bufalotti sono Poverini Poverini Mi dispiace di averli uccisi Vabbè ormai Pensavo di aggrarli Insomma che mi uccidessero Invece niente Vediamo cosa c'è qua Questo sembra deserto Dov'è quel tizio? Una vecchia registrazione vocale Sentiamo un po' Sentiamo un po' Ottimo lavoro I cinghiali Si stanno ritirando Il dio della morte non c'è più O tanti Andati Hai trovato Quella vecchia uniforme E' una pistola E' una pistola Tienile Un tempo Appartenevano A Nicolas Reyn Ora A lui non servono più Ma a te sì Le armi Per fare Una strage Che mi venga un colpo Nicolas Reyn era il dio della morte Beh Ha senso che i mutanti lo pensassero Finita la missione Bene bene dai carriera come missione Ci sta ci sta ci sta Vediamo un attimo Vediamo un attimo dove poter andare Sentinelle dell'autorità Andiamo a vaccare questo Visto che ci siamo E per di là Che belle le paludi Qui c'è un posto ad esplorare a 110 metri Vediamo cos'è Il radar rileva qualcosa Il segnale di un ranger Potrebbe essere uno dei nostri Un ranger disperso in azione Scopri cosa gli è successo Eeeh Che bravo che sono stato Per me saque Non mi mente Ups Hmm Poverino Poverino Che brutta fine Sentinelle dell'autorità Dov'è? Qua sciolta in teoria Ma scarpi Ma dai Vabbè 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 Cazzo Perché non arrivano i colpi d'alì Ma va Cacale Beh Vabbò Va Cazzo Siamo attenti Cavolo Fusione curativa no? Niente Eh noi li creiamo Ok Merda Niente Siamo stati colti impreparati Vabbè Con questo ragazzi direi che chiudo il gameplay Grazie e alla prossima puntata